Buonasera a tutti e grazie di essere uno di numero così grande. Non ci aspettavamo tutta questa affluenza, quindi scusate se c'è stato un po' di disagio all'inizio per accomodare tutti quanti. Abbiamo voluto cominciare con questo discorso visionario, storico di Bob Kennedy e parlava appunto del PIL e dopo tre mesi è stato ucciso, forse proprio per questo discorso. Probabilmente il mondo sarebbe cambiato se lui fosse diventato il presidente degli Stati Uniti d'America, ma quello che non è cambiato allora ormai siamo sul punto che deve cambiare adesso. Bob Kennedy nel suo discorso sul PIL pone l'accento sui valori etici di un'economia basata sul PIL. Io qui invece voglio porre l'accento sul significato matematico di un'economia basata sul PIL. Gli aspetti matematici che adesso andrò a dire dimostrano che questo tipo di economia è insostenibile, è insostenibile matematicamente. L'incremento del PIL costante porta a una crescita continua della finanza, una crescita che viene detta matematicamente esponenziale. In questo tipo di crescita aumenta l'esponente. Questo vuol dire ad esempio che se la base dell'esponente è 2 si raddoppia il valore di ogni passaggio. Per esempio se abbiamo all'inizio 1 avremo poi 2, 4, 8, 16, 32, eccetera. Se la base è 10 avremo 1, 10, 100, 1000 e così via. Ora una crescita esponenziale è impossibile in un sistema finito come la terra. Voglio fare un esempio a questo proposito. Supponiamo di avere un chicco di riso e di cambiare l'esponente ogni anno. Il primo anno avremo dunque 10 chicchi, quindi circa mezzo grammo, visto che 20 chicchi pesano circa un grammo. Il secondo anno avremo 100 chicchi, dal peso quindi di 5 grammi. Poi 50 grammi, con cui forse potrei fare un risotto per una persona che vuole stare a dieta. Proseguendo, l'anno successivo i grammi sarebbero 500 e quindi potrei fare un risotto per 5 persone, ma ancora poca roba. Sapete dopo solo 34 passaggi di incremento dell'esponente quanto riso dobbiamo prevedere matematicamente? Naturalmente 10 alla 34 è facile a dire. È anche facile a scrivere. Ma sapete quanto peserebbero 10 alla 34 chicchi di riso? Quanto tutto il sistema solare. È evidente che la crescita esponenziale della finanza non può essere sostenuta da un aumento proporzionale della produzione. Abbiamo avuto l'illusione che fosse possibile sostenere un aumento continuo di produzione per l'effetto dello sviluppo scientifico e l'enorme disponibilità di energia. Ma una crescita esponenziale, anche se inizialmente sembra procedere in modo sostenibile, inevitabilmente diventa a un certo punto esplosiva. Noi siamo arrivati molto vicini a questo punto e necessariamente la produzione non può più sostenere l'aumento esponenziale di moneta. Il concetto di benessere basato sulla crescita del PIL è matematicamente insostenibile e sta portando a inevitabili problemi di carattere ambientale e di distribuzione delle risorse economiche e finanziarie. Con una sofferenza diffusa sia in molti individui appartenenti a paesi ricchi, oltre che ovviamente alla metà della popolazione mondiale che vive in condizioni di povertà estrema. Infatti un assurdo della nostra società in regime di globalizzazione è che sebbene l'umanità non sia mai stata così ricca, grazie all'enorme sviluppo tecnologico e alla disponibilità di energia, e nonostante gli enormi sforzi di istituzioni umanitarie internazionali, circa 3 miliardi e 400 milioni di persone della popolazione mondiale vive ancora con meno di 3 euro al giorno, per cui ad essi non sono garantiti nemmeno i diritti fondamentali. Di queste persone poverissime quasi un miliardo muoiono letteralmente di fame. Per quanto le associazioni umanitarie si sforzino o anche i singoli individui cerchino di argenare il problema, e sono sicuro che molti di voi lo stanno facendo, con donazioni, il sistema economico basato sul PIL inevitabilmente porta a queste fratture, per cui attualmente meno di 100 individui possiedono risorse finanziarie pare a quelle possedute dalla metà povera della popolazione mondiale. Ricchezza chiama altra ricchezza in modo esponenziale, e naturalmente questa immensa ricchezza individuale non potrà mai essere usata se non come strumento di potere e di pressione. Per cambiare la situazione e rendere il mondo più giusto occorre una trasformazione radicale del sistema economico globale. Questa trasformazione può fare paura, specialmente alla classe media che si ritiene ancora privilegiata e teme di perdere i propri privilegi. Tuttavia è necessaria, prima che sia troppo tardi per attuarla, prima che la terra venga irrimediabilmente inquinata, per non lasciare i nostri figli o forse i nostri nipoti, o forse ancora se siamo ottimisti ai nostri pronipoti, un mondo invivibile. Proseguendo su questa via, inevitabilmente il mondo diventerà presto invivibile e noi abbiamo la responsabilità di apportare i cambiamenti necessari al sistema di globalizzazione. Penso che ormai tutti sanno questo fatto, ma si teme il cambiamento come la morte, che sappiamo esistere, ma a cui non vogliamo pensare. Ma mentre la morte è individuale e inevitabile, i problemi della globalizzazione sono creati dall'uomo, da una gestione non etica degli strumenti che la scienza mette a disposizione dell'umanità e quindi si può responsabilmente intervenire. Siamo qui per chiederci cos'è la felicità, cosa ci rende pienamente umani, individui unici che vivono in armonia con tutte le proprie relazioni. Quale può essere il giusto legiferare che sostenga una comunità che vuole essere felice collettivamente? Come rispettare le nostre tradizioni e radici, al tempo stesso sostenere l'innovazione in funzione dell'armonia generale? Come rispettare dunque i nostri centenati e i nostri pronipoti, lasciando loro un mondo migliore? Come usare il sapere scientifico per creare un reale benessere collettivo, nel quale possiamo scoprire una reale partecipazione creativa al mondo ed essere pienamente felici? E gli ospiti che stasera ascolteremo cercheranno di condividere la loro esperienza come esperti specifici di settori di attività umana. Noi siamo chiamati tutti a intervenire in modo originale. L'evento di oggi vuole essere solo l'inizio di una discussione creativa che prosegua nel tempo. L'idea di questa serie di eventi, che dovrebbe proseguire almeno fino alle universiadi che si tirano a Napoli a luglio, nasce dall'incontro di tre amici in una pausa pranzo a Capomisena. Questo non è un caso. L'amicizia dovrà avere un ruolo importante nella comunità del millennio e le relazioni dovranno essere sostenute da sentimenti prima che interessi personali e materiali. Così come la felicità è legata a luoghi del cuore dove ci si sente a casa e Napoli con i suoi dentorni sono sicuramente luoghi d'amore, almeno per noi che siamo napoletani, ma penso che per tutti, sicuramente per Leggett. Ma una comunità si crea anche attraverso passioni sportive e anche di questo Napoli è un esempio. Napoli è l'unica città, grande città, che ha una sola squadra di calcio, attorno al quale tutti si uniscono. E poi ancora attraverso la cultura, attraverso la disciplina e la condivisione del sapere, attraverso il rispetto delle proprie esigenze e di quelle degli altri. La creatività è figlia del gioco e della spensieratezza. L'amore per il sapere è spesso legato a maestri capaci di trasmettere un'esperienza autentica. Io sono stato fortunato nella mia vita perché ho conosciuto molti maestri, dapprima mio padre. Sono stato molto fortunato a nascere nella mia famiglia. Qui c'è Tony Leggett, che sicuramente per me è un grande amico, ma che è stato per me anche un maestro conosciuto prima attraverso i suoi articoli scientifici e poi personalmente attraverso un carissimo amico comune, mio maestro, in campo scientifico, che voglio ricordare qui. Il suo nome è Antonio Barone. Antonio Barone ci ha lasciato qualche anno fa per dissolversi nel mistero che avvolge tutti noi, ma recentemente mi è venuto in sogno chiedendomi di portare un messaggio che a me non sono riuscito a raccogliere nel sogno. Perdono Antonio per questo, ma sento che il tuo messaggio uscirà nella discussione di oggi pomeriggio. Lo spirito di Antonio è con noi. Un'altra parola che la comunità del millennio riscoprirà nel suo reale potere di trasformazione è amore. Un amore che diamo troppo spesso per scontato e che troppo poco ringraziamo. Io non sono religioso praticante, però mi piace molto quello che dice Papa Francesco. Ho sentito dire a Papa Francesco una cosa molto bella, cioè che forse Dio ha fatto in modo che ognuno avesse una mamma per farci conoscere l'amore. Grazie mamma e grazie a tutte le donne per esistere. L'origine della vita viene da voi ed è così che possiamo conoscere l'amore. Grazie ai figli e a tutti i giovani che ci fanno sentire la responsabilità per le nuove generazioni, che ci aiutano a riconoscere che la vita continua dopo di noi in un viaggio perenne e meraviglioso. Grazie a voi ho fiducia e non temo la morte. E grazie allo spirito di cui non so l'origine che mi fa riconoscere che esisto e che esisto contemporaneamente a tutti voi, con tutte le mie relazioni. Presenti, passate e future. Grazie a tutti.